La chiusura del traforo del Gran Sasso annunciata da Strada dei Parchi a partire dal 19 maggio non avrà solo conseguenze disastrose sull'economia dell'Abruzzo, ma metterà in pericolo la vita di tanti abruzzesi. Perché? Un esempio. Un'ambulanza che dovrà trasportare d'urgenza un malato cardiopatico dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, che è privo della cardiochirurgia, all'ospedale Mazzini di Teramo ritarderebbe così tanto nell'attraversare il passo delle capannelle da mettere a rischio la vita stessa del paziente. Eppure Strada dei Parchi, la concessionaria dell'autostrada 24 e A25, a processo per pericolo di rischio ambientale insieme ai vertici di Ruzzoreti e i laboratori di fisica nucleare, non vuole sentire ragioni. Si chiude e basta. Ma com'è possibile? Si chiedono i cittadini, le associazioni di categoria, i sindaci dell'Aquila e di Teramo. L'autostrada è un bene pubblico e non può essere interdetta da un concessionario, che avrebbe dovuto fare in questi anni la necessaria manutenzione nella massima sicurezza salvaguardia dell'acquifero. La società, che fa capo al gruppo Toto, sostiene invece che la chiusura del traforo è un atto dovuto, visto il rinvio a giudizio della procura di Teramo e aspetta un intervento dello Stato. Un duello che si sta giocando sul tavolo romano, dove a sfidarsi a colpi di milioni di euro sono il Ministero delle Infrastrutture e Strada dei Parchi. Una corsa contro il tempo per salvare la viabilità del traforo attraverso una soluzione che potrebbe essere quella di un commissario, che assuma su di sé la responsabilità della messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso. Allo stesso tempo lo Stato dovrà stanziare la cifra complessiva di 172 milioni di euro per procedere all'intervento complessivo che riguardi le tre infrastrutture. Per la procura di Teramo, infatti, il pericolo di rischio ambientale dell'acqua non è solo imputabile a Strada dei Parchi, ma anche al non perfetto isolamento dei laboratori di fisica nucleare e alle condizioni in cui versano le condotte dell'acqua, documentate da un filmato subacqueo del Comando dei Carabinieri Ambientali di Pescara. La Galleria del Gran Sasso sulla 24 è costata 1.700 miliardi di lire, fu inaugurata da Craxi nel 1983 dopo 16 anni di lavori. È lunga 10 chilometri e collega l'Italia centrale da una costa all'altra.